Non ha avuto alcun effetto. Allora ma GV quando è che comincerai a fare fissa? Lo mostro adesso io il colpo che fa veramente male. Vai VIG, 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 ATTENTION! Il potentissimo Super Begeku ha scagliato contro la l'avversario un colpo di una forza in Magia. È riuscito a concentrare tutta l'energia in una saetta micidiale che ha trapassato Majin Bu facendolo esplodere in mille pezzi.